Fiamme Gialle ancora al lavoro sul territorio provinciale. Sono 25 i lavoratori irregolari e a nero individuati dalla Guardia di Finanza nell'ultimo paio di mesi durante le normali attività di controllo. 13 gli esercizi commerciali coinvolti, soprattutto appartenenti al settore della ristorazione. Per 5 di questi è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per aver impiegato personale irregolarmente in misura pari o superiore al 10% del totale della forza lavoro. È una situazione fisiologica che non è né più alto né più basso di altre province d'Italia. È chiaro che bisogno dei momenti, come soprattutto la bella stagione, che i ristoratori hanno bisogno di più personale, è chiaro che ci si avvale molto spesso di personale in nero. È chiaro che però in questo modo si danneggia soprattutto chi invece fa le cose in regola. Dei 25 irregolari, 17 lavoravano senza stipula del contratto, di cui una decina come scaffalisti per giunta privi degli attestati di formazione per la sicurezza, mentre gli altri 8 risultavano impiegati con contratti a chiamata, senza però che le comunicazioni preliminarie obbligatorie a carico dei datori di lavoro fossero state inoltrate. Ci sono purtroppo delle cooperative che non sono bellunesi, ma vengono da fuori, con sede quindi fuori anche a Regione, che prendono questi lavoratori, che sono soprattutto extra comunitari, che vanno a lavorare completamente in nero.